Ciao a tutte, oggi parliamo di un argomento che sicuramente interesserà a tantissimi genitori, i capricci. Sono molto difficili da sopportare per i genitori perché creano un senso di frustrazione e spesso i capricci che fanno i bambini nella fascia, diciamo, quelli dai 2 ai 4 fino al massimo 5 anni, sono dei capricci molto irrazionali per delle sciocchezze. Ad esempio a me viene in mente, versi il latte alla mattina nella tazza sbagliata, hai rovinato almeno un'ora della giornata di tuo figlio, drammi allucinanti, è vero Giulia? Sì, che sono piccoli dettagli che però possono scatenare l'inferno, e perché? E sono totalmente irrazionali, che i genitori veramente non capiamo perché abbiano queste reazioni abnormi. E quindi io volevo raccontarvi qualcosa sui capricci sia a livello psicologico e dare qualche consiglio. Innanzitutto i capricci, ci mettiamo il cuore in pace, dai 18 mesi appunto ai 3, 4, massimo 5 anni, sono normali perché sono causati da un'immaturità cerebrale, nel senso che la parte del cervello che regola le emozioni non è sviluppata, totalmente sviluppata. Con il cervello rettile, no? Che dicono, quello che prende il sopravvento. Esatto, e quindi di fronte alla minima frustrazione, un bambino a causa di questa immaturità cerebrale sembra andare giù di testa. Questo però non deve essere una scusante per dire, vabbè, ok, allora io non faccio niente, lascio andare tanto, perché ovviamente il compito del genitore è quello di educare. Cosa possiamo fare? Innanzitutto bisogna mantenere la calma, che è molto facile da dirsi, più difficile da farsi, però tutte le volte che abbiamo voglia di urlare le peggio cose ai nostri figli, dobbiamo pensare che nel momento in cui urliamo è come se anche noi facessimo i capricci, perché ci mettiamo al loro livello, quindi in qualche modo noi perdiamo autorevolezza rispetto ai loro occhi. Per rendere il controllo perdiamo autorevolezza e quindi loro non si sentono più contenuti anche, no? Sì, anzi, li rendiamo esatto ancora più insicuri in un momento in cui invece hanno bisogno di un punto fermo. Poi un'altra cosa che sembra un paradosso è quella di non far scegliere sempre ai bambini. Tante volte si chiede ai figli che cosa vuoi fare, come ti vuoi vestire, dove vuoi andare, che cosa vuoi mangiare. Ecco, spesso questo può causare confusione ai bambini. Per gli adulti in realtà, se tu devi scegliere tra 20 vestiti e invece solamente due, a volte la troppa scelta paralizza, no? Esatto. La fase decisionale, quindi per i bambini... Assolutamente. Tra l'altro i bambini, avendo bisogno di punti fermi, quando un genitore sceglie per loro, tante volte, anche se a volte non gli va bene, cercano di contrattare, comunque sapere che un genitore sceglie per loro è una garanzia, anche questa è una sicurezza. Anche a volte me lo chiedo, magari impongo io una scelta, lo vedi un po' titubante, però quasi col sorriso, non sempre ovviamente. No, esatto. Quindi dico, ma forse gli è andata bene che abbia scelto io, perché lui non sapeva realmente cosa voleva. Certo, certo. Ovviamente essere anche coerenti con le proprie scelte, perché è chiaro che se io scelgo per te, poi nel momento in cui tu magari il bambino ti dice di no o fa un capriccio e si cambia, allora quello diventa un problema. Cioè, comunque il genitore deve riuscire ad essere il più possibile coerente con le sue decisioni, con le sue scelte e anche con i no, perché questa era una cosa che avevi detto anche tu una volta, avevo letto anch'io che è verissima. I no sono come dei lampioni nella notte, perché un bambino così piccolo è come se andasse in giro per una strada sterrata, che ai lati ci sono dei burroni, ci sono dei crepacci, ci sono dei pericoli. E spesso, anzi sempre, le regole dei genitori e i no e la coerenza sono i lampioni, che comunque gli indicano la strada da percorrere e la strada giusta, anche se comunque poi ai bambini ogni tanto gli piace andare ad esplorare dove... Il genitore ha un po' la funzione di restituire le emozioni negative dei figli elaborate, quindi chiaramente cosa succede durante un capriccio, calmare, rassicurare, spiegando sempre il motivo del no e spiegandogli cosa accade in modo che il bambino comunque si senta rassicurato. Che riesca, come dire, a verbalizzare tramite noi questa emozione che non riesci a comprendere. Quindi dobbiamo capirla a noi per restituirla a lui. Come se noi gli stessimo spiegando che cosa succede, perché lui in quel momento non riesce, perciò abbracciarlo, calmarlo, quindi contenere questa emozione ingestibile per lui o per lei. E poi quando, anche se a volte sembrano non ascoltare, non capire, comunque magari su dieci volte cinque non le capiscono, però le altre cinque le possono capire. C'è anche un'altra cosa, è vero proprio quello che dici tu, provandolo proprio nella pratica, che magari in situazioni estreme, limite, dove sta facendo un capriccio pazzesco, l'effetto sorpresa, quindi dove in realtà lo strozzeresti, ma invece se lo abbracci e lo contieni, in realtà a me è successo di fare così, nelle situazioni diciamo più difficili, e in realtà il bambino si sente, cioè smette di fare appunto questo capriccio così, perché è colto di sorpresa. Non so qual è il meccanismo. E un'altra cosa che è un trucchetto che funziona di più con i bambini molto piccoli, quando crescono e che iniziano ad avere 4-5 anni non funziona più, perché poi un bambino molto piccolo ha una toglia di attenzione bassissima e tante volte inizia a fare un capriccio e continua, continua, continua a piangere, ma lui non si ricorda neanche il motivo del capriccio. E tante volte distrarlo con qualcos'altro, cioè parlandogli, portando la sua attenzione con qualcosa che non c'entra a niente, non c'entra assolutamente niente col motivo del capriccio, lo fa un attimo riprendere e poi si può ritornare a riportarlo dove volevamo prima e a volte è anche più predisposto ad ascoltare, a capire, però per interrompere un capriccio, come capisci, proprio brutti, violenti, che uno, oddio che cosa faccio, che spesso, io mi ricordo che comunque quando avevo il mio primo figlio, cioè dicevo, oddio che cosa succede, che cosa ho fatto, non capivo cosa fare, e questa cosa del distrarre, della distrazione. Della distrazione, dell'effetto sorpresa, tipo, oh guarda cosa sta succedendo, guarda, girati, girati, guarda lì e... C'è un uccellino fuori dalla finestra, guarda, dove, dove, esatto. Così e poi a un certo punto, è vero, non si ricordano neanche più perché stavano piangendo e funziona questa cosa. E poi magari dopo tempo, 5 minuti, gli si ripropone la cosa per cui erano andati giù di testa, a volte, ah sì, ok, che dici, mamma mia. Tu sei sconvolto, perché comunque metti sempre a dura prova la gestione. E poi tu invece adesso mi consiglierai, nella prossimo video, un... Un libro che appunto, quando dicevamo prima, gestire quei capricci incontenibili, eccetera, a chi non viene in mente la classica scena del capriccio al supermercato. C'è una pagina in cui dice come gestire i capricci al supermercato. O al supermercato o nei luoghi pubblici, quelli dove proprio ti vorresti... Sì, tutti quei luoghi dove tutti ci aspettano che tu risolva immediatamente la cosa. Dove ci sono i genitori che ti guardano con compassione, come dire, ecca, ti capisco, i non genitori che ti guardano così come per dire, non succederebbe mai, quando avrò io un figlio non farò mai una cosa del genere. Sì, infatti, il giudizio, il temuto giudizio. E nel prossimo video vi racconto questo libro svolta. È uno di quei libri che a me è stato molto utile, mi ha fatto capire molte cose ed ha proprio anche delle tecniche, degli stratagemmi pratici da mettere in atto in quelle situazioni limite. Intanto, se volete rimanere aggiornati, seguite Yumi Mam. E Mamma, che libro? E scrivete qua sotto nei commenti... Se ci sono degli argomenti che vi interessano. ...trattare. Ciao. Ciao.